un po' fuori così aspetta fai puoi passarmi in petta? non non vai 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 è qui e Sì, tra il soggetto di sé, nessuna roba è una litigia, questo è di mangiare. Sì, nessuna roba è una litigia, questo è di mangiare. Che cosa, magari cerchiamo più di mangiare? E anche per sentire bene il rumore di non usare. Sì, dopo l'audio abbiamo... Ora, magari non parli perché l'audio siamo lo chianti, quindi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.